51 aziende siciliane del settore agroalimentare voleranno a Milano per partecipare a Golosaria, la grande manifestazione enogastronomica in programma negli spazi del Mico Fiera Milano City dal 26 al 28 ottobre. La rassegna magrebina dedicata alla cultura del gusto e alle eccellenze enogastronomiche italiane è giunta alla 14esima edizione e quest'anno raccoglierà 300 artigiani del gusto, 100 cantine e 20 cucine di strada che si misureranno con il tema Il Cibo che Cambia. E anche quest'anno la presenza siciliana a Golosaria sarà numerosa e altamente qualificata. Le eccellenze del settore agroalimentare siciliano saranno a Milano grazie alla Regione siciliana che tramite l'assessorato regionale alle attività produttive ha finanziato la partecipazione delle aziende dell'isola alla manifestazione. Negli spazi espositivi di Golosaria ci saranno così i vini siciliani, l'olio, il pistacchio e ancora il torrone, passando per il couscous e la pasticceria. Credo, ha detto Mimmo Turano, assessore alle attività produttive della Regione siciliana, che il tema proposto quest'anno da Golosaria sia molto stimolante per le nostre aziende che, come è noto, hanno spesso una lunga storia e una grande tradizione. Rimanere sul mercato ed essere competitivi, ha detto ancora Turano, per noi significa coniugare tradizione ed innovazione ed è questo binomio che, come amministrazione regionale, vogliamo incoraggiare e promuovere. Grazie. 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 Grazie.